Prima guerra mondiale Prima guerra mondiale Ti sei dimenticato qualcosa? Forse solamente di dirti che il bambino è mio e che deve venire con noi Ha avuto una relazione con Elena La nostra è la domestica Sì, ok, questo lo sappiamo, ne la parliamo nel più tardi Ora dobbiamo metterci in salvo Andiamo via di qui, Svizzera Arriviamo! Svizzera 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 Svizzera